Grazie a tutti. Il vecchio servizio oggetto di diverse proroghe negli ultimi 5 anni ormai agli sgoccioli. Ciclat pronta ad accantierarsi. Forza Italia denuncia il grave errore dell'amministrazione Bruno col comune escluso dalla graduatoria del bando regionale BADDE riguardante i contributi per la realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione paesaggistica di aree degradate e utilizzate in maniera impropria. Anche per questa Pasqua, come da 4 anni a questa parte, la flower designer Daniela Cano ha allestito la basilica di San Pietro per la veglia pasquale del sabato santo. Insieme a lei ha collaborato l'art designer algherese Guido Beltrami. Li abbiamo intervistati. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV. Apriamo parlando, come avete sentito anche dai nostri titoli, del nuovo appalto di gene urbana che dovrebbe partire la prossima settimana. Via libera all'accantieramento con la Ciclat che però potrebbe subappaltare il servizio. Vecchio servizio ormai agli sgoccioli tra le polemiche anche per come è stato gestito nei giorni di Pasqua e di Pasquetta. Tra problemi legati anche alla fase di transizione in corso, come ammesso dall'assessorato all'ambiente. Se il Ponte Pasquale rappresentava un primo test in vista della stagione estiva, superato positivamente per via delle presenze, non altrettanto si può dire sul fronte della Polizia e del decoro urbano. Almeno a giudicare da alcune foto pubblicate sui social da diversi algheresi, che hanno lamentato, ad esempio, il mancato ritiro del vetro e dell'umido. Campane non svuotate, buste abbandonate nei punti di raccolta e piccoli banchetti a cielo aperto per la gioia di gabbiani e cornacchie. Immagini già viste, soprattutto nel corso dell'ultima estate, che si spera di mettere da parte con l'avvio del nuovo servizio di gene urbana. Il 26 aprile ormai vicino la Ciclat avrebbe rotto gli indugi per l'accantieramento, soprattutto dopo aver ricevuto il sostanziale via libera per subappaltare il servizio a soggetti diversi o consociati. Un aspetto sul quale ha gettato ombre nelle scorse settimane Forza Italia è che sarebbe oggetto di un esposto presentato all'anticorruzione da una delle società escluse perché nel capitolato della gara di appalto non sarebbe prevista la possibilità di subappaltare il servizio. Sarebbe l'ennesimo risvolto giudiziario di un procedimento che ha avuto inizio oltre quattro anni fa, un ITER caratterizzato da ricorsi e contro ricorsi a TAR e Consiglio di Stato conclusosi solo recentemente con ancora però un giudizio pendente che sembra non preoccupare l'amministrazione. Amministrazione che con l'avvio del nuovo servizio non avrà più scuse, così come non ne avranno i cittadini chiamati a un maggiore senso civico. Ennesimo grave errore dell'amministrazione Bruno col comune di Alghero che viene escluso dalla graduatoria del bando regionale BADD e contributi per la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate e utilizzate in maniera impropria. A denunciarlo in una nota è forza Italia. Proprio non è nelle corde di questa amministrazione, sostengono i consiglieri Maurizio Pirisi, Michele Paese, Nunzio Camerada, unitamente al portavoce cittadino Andrea De Logu, riuscire a distruire una pratica di finanziamento in maniera corretta, bravissimi nel fare annunci ultimi della classe nell'accedere ai finanziamenti o ai bandi agevolativi. E così dopo che per il terzo anno consecutivo Alghero è rimasta fuori dalle graduatorie per l'utilizzo del personale che richiede di accedere al servizio civile, ora perde l'ennesima opportunità di ottenere dei finanziamenti. In questo caso scrivono Pirisi, Paese, Camerada e De Logu, l'assurdità è davvero al limite del surreale. Il comune aveva ottenuto e incomodato un terreno con annesso immobile da parte di Laore. Il progetto tecnico era già stato fatto da Laore, offerto gratis al comune e Bruno e compagni sono riusciti nell'ardo impresa di rimanere fuori dalla graduatoria perché hanno presentato la domanda in ritardo. Un ulteriore schiaffo, concludono i forzisti, per questa amministrazione è sempre più inadatta a fornire risposte ai lavoratori e alle imprese incapace di valorizzare persino progetti già confezionati, ma bravissima a perdere risorse che sarebbero una vera e propria boccata d'ossigeno per la città. Si specchi meno, signor sindaco, e pensi invece ad amministrare. Se ne è in grado, conclude la nota. Meno 16 giorni alla partenza della centesima edizione del Giro d'Italia da Alghero in programma il 5 maggio. Proprio in quell'occasione le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse a stabilirlo e a un'ordinanza firmata dal sindaco faranno eccezione le sole classi delle scuole primarie impegnate nelle prove in balsi, così come disposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Studenti che nella giornata di domani, dalle 9, si ritroveranno nel Piazzale della Pace, da dove prenderà via una pedalata con sfilate in alcune vie interessate dal transito dei campioni del Giro. La carovane rosa degli studenti algheresi coinvolgerà tutte le scuole, attraverserà via Garibaldi, Scalo Tarantiello, via Sassari, via Simon, Largo San Francesco, via Fratelli Kennedy, piazza Sulis, Lungomare Dante, Lungomare Valencia, Viale della Resistenza, via Giovanni XXIII, via Cagliari, via Garibaldi, con rientro in Piazzale della Pace, dove ai giovani ciclisti verrà distribuita una gustosa merenda. L'iniziativa rientra tra le numerose manifestazioni collaterali alla grande partenza del centesimo giro previste ad Alghero, molte delle quali coinvolgono appunto le scuole cittadine e le associazioni locali. Così come sono sempre più numerosi gli allestimenti nelle varie zone della città. Nel centro storico soprattutto, ma non solo, vi ricordiamo che potete inviarci le vostre foto all'indirizzo redazione.catalantv-gmail.com oppure tramite la nostra pagina Facebook, quella naturalmente di CatalanTV. Ci fermiamo, prima pausa per la pubblicità, tra poco. È operativo da ieri ad Alghero, nuovo sportello dell'ufficio protocollo in via Colombano, con orario al pubblico 9.12, da lunedì al sabato. Si aggiunge allo sportello attivo a Sant'Anna. Si completa così la prima fase della piccola rivoluzione programmata in comune e orientata al potenziamento dei servizi offerti ai cittadini, con un utilizzo più razionale degli immobili di proprietà, che ha previsto l'avvicinamento degli uffici nel centro città e un cospicuo risparmio per le casse pubbliche. Liberati gli uffici ubicati a Santi Angeli, via Vittorio e Emanuele, ricordano nella nota. In quest'ottica, nelle scorse settimane, si è completato il trasferimento nell'immobile pubblico di piazza Portaterra degli uffici del sindaco, staffe, comunicazione, segreteria, affari generali, ufficio delibere, quello legale. Si aggiungono ai servizi finanziari o personale parte del CED, già operativi nell'immobile dell'ex pretura, con ingresso da via Colombano. Un generale potenziamento dei servizi di prossimità, che ha riguardato la nascita dell'InfoAlghero, nuovo ufficio delle informazioni del comune di Alghero, che unisce URP e ufficio turistico. Oggi ubicato al piano terra del Qualtè, ma nel prossimo futuro allocato nell'immobile dell'ex casa del caffè di via Cagliari. Ed ora ci spostiamo dal centro città, andiamo al parco, dove si sta svolgendo emozioni di primavera. Grande successo di pubblico e di visitatori. Nella sola giornata di Pasquetta, oltre 2.000 i visitatori, e 1.200 quelli paganti, fra casa gioiosa e prigionette. Più di 3.000 appassionati hanno già visitato il parco di Porto Conte, tra il primo weekend, avviato con l'inaugurazione avvenuta all'8 aprile, e il secondo weekend pasquale. Nella sola giornata di Pasquetta, come detto, oltre 2.000 visitatori, fra casa gioiosa e prigionette. Ma il programma Emozioni di Primavera prosegue con gli appuntamenti del prossimo weekend della Liberazione. Sabato 22, domenica 23 e martedì 25 aprile. Confermati tutti i servizi a casa gioiosa, visita al Museo della Memoria, alla mostra di Helio Pulli, percorsi vari di tipo naturalistico, a piedi, in bici, con mezzi elettrici, il battesimo della sella, kayak, gommone e altro. Ma anche l'emporio dei prodotti tipici e il menù degustazione nel giardino di casa gioiosa. Inoltre sabato 22, alle ore 18, il concerto di Mauroselli, Dimension Back. Mentre domenica 23 c'è l'orchestra del Conservatorio di Sassari. La sera alle ore 17.30 e la mattina dalle 8 tutti in pista per la prima tappa della gara podistica Porto Conte a tappe. Mentre martedì 25 a Fertilia per la festa di San Marco con la partecipazione di tutte le imprese che hanno il marchio di qualità del parco. Con la carta del parco ricordano appunto dall'area protetta, ingressi gratuiti, tanti sconti e vantaggi. Dal Ghero al Vaticano per l'allestimento della veglia pascuale a San Pietro nella Basilica. È il settimo allestimento in quattro anni, quello che Daniela Canu, esperta flower designer, ha realizzato all'interno della Basilica di San Pietro. Appunto, quest'anno ha collaborato con lei anche l'art designer algherese Guido Beltrami. Li abbiamo intervistati proprio questa mattina. In compagnia di Daniela Canu, flower designer molto conosciuta e Guido Beltrami, art designer algherese, parliamo di un'esperienza che oramai lei compie da quattro anni, ovvero l'allestimento nella Basilica di San Pietro in Vaticano per quanto riguarda la Pasqua, quindi il sabato santo, la veglia pasquale. Siete partiti da Al Ghero proprio per andare ad allestire per Papa Francesco. Che esperienza è? È un'esperienza bellissima, un'esperienza che è bella soprattutto per il posto in cui ci si trova. Lavorare dove hanno lavorato dei grandi come il Bernini e poi comunque l'emozione che ci dà ogni volta che creiamo degli allestimenti con i fiori. Io ho tanti anni che faccio questo lavoro, ho fatto dimostrazioni anche in Italia e all'estero, posti come Mosca, New York e ogni volta creare e trovare dei nuovi stili, soprattutto utilizzare lo stile italiano per me è una grande emozione. Parliamo dell'allestimento proprio in per sé stesso, quello che avete realizzato nella Basilica. Allora, l'allestimento della Basilica intanto ha dietro un progetto che dura da mesi, dove alla base c'è anche quello che è la liturgia, bisogna seguire tanti criteri, i colori sono i colori della Pasqua e allo stesso tempo anche i colori comunque del Vaticano, il bianco e il giallo in primis, ma con l'aggiunta del rosa che ricorda tanto la rinascita e la Pasqua. Una particolarità che interessa anche Alghero, da dove è partita lei ma da dove è partito anche un altro artista algherese che è Guido Beltrami. Lei dopo tanti anni è voluta ritornare in Sardegna, base logistica Alghero, dove aprirà anche un atelier, però ha deciso di portare un art designer, un artista algherese. Guido, che esperienza è stata? È stata un'esperienza veramente unica, la prima volta che entro in Vaticano non come turista ma come allestitore, quindi devo ringraziare Daniela che mi ha dato questa opportunità di mettere mano in una zona particolare e lì veramente è stata un'emozione forte poter stare nel luogo più santo, più intimo, dove il Papa celebra e poter aver contribuito a questo allestimento qua. È stata dunque un'esperienza anche di squadra Daniela. Esatto, è bello anche poter poi durante l'anno poter ricordare questi momenti e poter magari pensare a un futuro di nuovo in Vaticano. La presidenza dell'Università per la terza età comunica che domani alle 17 nella sala conferenze dell'ex seminario di Via Sassari la professoressa Anna Maria Cecotti, docente di storia dell'arte e autrice teatrale presenterà Storia del territorio, ricordi della vita di Alghero. E l'Ateneo Algares comunica che venerdì 21 aprile alle 18.30 presso la sala delle conferenze in Via Cavour 23 riprenderanno gli incontri culturali del ciclo IETRAS all'Alghè con la partecipazione del professor Francesc Monpo che affronterà il tema Wendus, Gracious e Maramoltes Cultura Populare e Literatura Infantile. Il professor Monpo, critico letterario, saggista, romanziere e poeta ha al suo attivo numerose pubblicazioni che gli hanno fatto ottenere notorietà e apprezzamento nel mondo culturale catalano nella sua poellidricità. ha fornito un valido contributo alla produzione di questo genere letterario spesso obsoleto, cioè quello della letteratura per ragazzi inquadrato nell'ottica di uno specifico interesse per la diffusione della lingua e della cultura popolare partendo dal presupposto che la lingua si mantiene viva con la produzione letteraria e con l'educazione alla lettura fin da bambini. Facciamo l'ultima pausa per la pubblicità poi parliamo di sport. Si è conclusa sabato pomeriggio la due giorni di basket a Palamanchia organizzata dalla Coral 93 di Enrico Salvatore in memoria di Simone Fertuzzi riservata alla categoria Under 16 maschile e che ha visto protagonisti la società padrona di casa la Dinamo Sassari il Pino Dragons Firenze e la Palacanestro Alguero è stata la Coral 93 ad aggiudicarsi il Memorial dopo aver sconfitto la Palacanestro Alguero 66 a 42 il Pino Dragons Firenze 67 e 54 in una combattutissima finale i ragazzi della Coral hanno avuto la meglio sulla Dinamo Sassari con il punteggio di 81 a 68 un ringraziamento speciale all'amministrazione comunale di Alguero che ha concesso l'utilizzo della struttura del Palamanchia e alla famiglia Fertuzzi sottolineano dalla Coral rendendo noto che a breve saranno disponibili tutte le informazioni per il camp che si svolgerà nelle prime tre settimane di luglio e nell'edizione di ieri del nostro telegiornale abbiamo parlato dell'importante appuntamento con il campionato nazionale FIV 555 di vela organizzato dallo Yacht Club Alguero quello che poi si è svolto all'interno del weekend pasquale oggi continuiamo a parlare di vela ma lo facciamo con Pierpaolo Carta componente del direttivo e Angelo Iba direttore del settore vela che si sono concentrati invece sull'attività dello Yacht Club Si parla di vela oggi qui a Catalan TV lo facciamo con Pierpaolo Carta del consiglio direttivo dello Yacht Club Alguero e con Angelo Iba che invece è il direttore del settore vela sempre del nostro club algherese Pierpaolo sono momenti importanti quelli della primavera e dell'estate per lo Yacht Club Alguero perché si ha il risveglio dell'attività un'attività che comunque continua tutto l'anno ma che si concentra giustamente anche per le condizioni climatiche in questi determinati periodi Beh sì, no assolutamente dopo l'ettargo dell'inverno con la primavera si ha installato l'attività sportiva della vela noi come direttivo sapete benissimo più volte abbiamo detto che investiamo molto sulla vela fa parte del bilancio importante siamo orgogliosi di aver potuto organizzare questa manifestazione sia per l'Oghiottocchio ma soprattutto anche per la città di Alghero che come ho sempre detto in altre interviste abbiamo il mare abbiamo il vento abbiamo le spiagge abbiamo tutto per poter fare vela a pieno regime La cosa importante comunque è sempre il coinvolgimento dei più piccoli per voi? Assolutamente sì noi abbiamo una scuola a vela che parte adesso da giugno con i bambini che partono dai 7 anni in su abbiamo avuto due anni numerosi bambini sono avanti addirittura anche 80 lievi e poi la maggior parte poi sono riversati sull'attività agonistica però volevo anche cogliere un punto adesso dal punto di vista volevo anche ringraziare la fondazione Alghero se potevo permettiti come presidente Raffaele Sari e il direttore Paolo Sirena i quali quando abbiamo chiamati per darci una mano per questa manifestazione sono stati veramente contenti di poter collaborare con noi poi il Giro d'Italia un po' li ha messi un po' di difficoltà logistiche e altre cose però comunque ringrazio ringrazio e allora chiediamo al direttore del settore vela è importantissimo il coinvolgimento dei più piccoli tanti progetti sia per i piccoli ma anche per chi vuole avvicinarsi a questo sport certo i piccolissimi sono la cosa più importante per il nostro club ora appena finiscono le scuole inizierà l'attività di scuola vela vera e propria con bambini di 7 anni non tutti diventano campioni l'importante è che vengano da noi per giocare per avvicinarsi al mare e per capire insomma abitiamo a Del Giro la città più bella del mondo sul mare dovremmo avere almeno 10.000 bambini secondo me comunque dopo la prima scuola vela si passa all'attività agonistica l'attività agonistica è quella che ci permette poi di avere dei risultati a livello nazionale anche perché fino ad ora i nostri ragazzi sono sempre classificati benissimo in tutte le manifestazioni veliche che facciamo sia a livello regionale che a livello nazionale e allora una scuola vela di alto livello ma chi volesse avere informazioni o comunque venire a chiedere per iscrizioni dove si può recare? viene da noi alla Yot Club nella banchina abbiamo la nostra sede la segreteria è aperta tutti i giorni dalle 9 alla 1 e poi si sente un pochino come si vuole organizzare come si vuole sistemare il bambino le ripeto a noi interessa che il bambino venga da noi per giocare all'inizio prenderanno il via domani le selezioni per l'ammissione al corso di assistente bagnante organizzato dalla locale sezione salvamento della federazione italiana nuoto all'interno dell'impianto natatorio del Green Hotel in viale della Resistenza è gestito dall'associazione sportiva ASD Green Alghero potranno accedere al corso tutte le persone dai 16 ai 60 anni che durante le selezioni dimostreranno di saper nuotare stile libero in un altro stile a piacere il corso sarà articolato in lezioni teoriche e pratiche che si terranno il martedì e il giovedì alle 20.30 a partire appunto da giovedì 27 aprile se no alla fine di maggio a conclusione sono previste una prova teorica e una prova pratica davanti a una commissione giudicatrice per informazione e iscrizione è possibile contattare il numero 3290774001 e la notizia del corso di salvamento chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale vi lascio al meteo e vi ringrazio per averci seguito arrivederci vi ringrazio per averci seguito